ciao a tutti amici recentemente ho pubblicato un video sulla salute naturale della prostata argomento cruciale per tutti gli uomini soprattutto dopo gli anta anche solo per sapere come iniziare a informarsi con attenzione e sapere come fare prevenzione attiva e non passiva eccolo potete vederlo qui alcuni di voi mi hanno scritto per avere informazioni sui migliori rimedi descritti dalla naturopatia e in particolare sulla serenoa repens o so palmetto che è un rimedio naturale siccome tempo fa ho fatto un video su questo argomento ho pensato di farvelo vedere direttamente come risposta eccolo qua per i disturbi della prostata non solo la naturopatia ma anche la medicina ha individuato un rimedio naturale la serenoa repens il nome in inglese è so palmetto in italiano palma nana ed è una piccola palma con molti effetti benefici e per fortuna quasi nessun effetto collaterale i costituenti chimici più importanti sono steroli acidi grassi carotenoidi oli essenziali e polisaccaridi l'estratto di palma nana è utilizzato nell'uomo per aumentare la funzione testicolare e per eliminare l'irritazione delle mucose genito-urinarie e prostatiche l'infiammazione della prostata infatti genera l'ipertrofia prostatica una manifestazione che aumenta con l'età dove il testosterone una volta aggiunto nella prostata viene convertito in diidrosterone una sostanza che stimola le cellule a moltiplicarsi e da qui l'ipertrofia o aumento della ghiandola i sintomi prevalenti sono un maggiore stimolo urinario con fastidiosi risvegli notturni e una riduzione della forza e del calibro dell'urina l'estratto delle bacche di serenoa repens sembra impedire la conversione del testosterone in diidrosterone con risultati positivi e percepibili addirittura nel giro di un mese la letteratura non riporta nessun disturbo o effetto collaterale anzi a differenza dei farmaci chimici per la prostata che possono inibire il desiderio la palma nana ha anche un effetto benefico e va a incrementare il desiderio il dosaggio varia a seconda dell'intensità dei sintomi generalmente si possono assumere 150 mg di estratto standardizzato di serenoa repens due volte al giorno per almeno tre mesi consiglio di assumerlo in sinergia con l'estratto di tè verde che è ricco di polifenoli e catechine che potenziano e stabilizzano il risultato a favore della prostata sempre in modo naturale bene amici spero vi sia stato utile ricordate che ogni persona ha esigenze diverse e particolari se dopo aver consultato il vostro specialista desiderate una consulenza professionale di naturopatia potete contattarmi tramite il mio sito o la mail scritta nell'info box qui sotto nel frattempo mettete un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video iscrivetevi al canale se già non lo avete fatto si fa così clic noi ci vediamo al prossimo video naturalmente ciao tanti personaggi ogni mese quando hanno la mestruazione